Il mio nome è Patrizia e lavoro in Simmel Difesa, una società del gruppo KNDS, nel quale ricopro il ruolo di CFO, Chief Financial Officer, seguendo tutti i settori dell'amministrazione, finanza, controllo, fiscalità e societario. Il mio compito non è soltanto quello di garantire la correttezza, la completezza e la trasparenza dei processi di formazione e di bilancio, ma anche e soprattutto collaborare in staff con l'amministratore delegato per implementare i piani strategici dell'azienda al fine di raggiungere l'obiettivo sia del risultato economico che del cash flow. Mi piace essere una sorta di business partner per tutti gli altri enti, affinché possano trovare nella collaborazione con me risposte a problemi, domande, soluzioni e poi mi piace la diversità, il fatto che passo da una parte all'altra come argomenti che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Mi sono segnata alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza di Roma, dove ho conseguito la laurea con l'Ode. Ho continuato a seguire dei corsi di formazione all'interno delle aziende per le quali ho lavorato, incluso un corso di formazione sui materiali esplosivi alla Cranfield University in Inghilterra. Normalmente mi sono più basata su modelli di valori, quali la correttezza, la trasparenza, la sincerità, l'onestà. Ciò non toglie che non abbia ammirato delle donne che in passato hanno saputo lasciare un'impronta sulla terra, donne del calibro quali Marie Curie, Rita Levi Montalcini, Margaret Thatcher, Madre Teresa di Calcutta, tutte donne che hanno saputo perseguire i loro sogni o il loro credo con grande determinazione. Armatevi di tanta passione, voglia di imparare, pazienza, propensione all'ascolto e alla disponibilità verso gli altri e sicuramente si riuscirà ad avere soddisfazione nel mondo del lavoro. Grazie a tutti, Grazie a tutti